Seguono al campo Cercat di Cirignola nel Foggiano gli allenamenti della formazione della Sport Mania che milita nel campionato di prima categoria pugliese. I gialloblu guidati da Michele Schiavone sono radici dalla vittoria ottenuta in casa contro la Virtus Molpeta per 3-1 e adesso hanno ripreso la marcia in classifica. Adesso si stanno allenando per preparare la trasferta contro la nuova Andria. La formazione che affronterà una riduce dalla sconfitta subita a Spinazzola per 2-0 e fino a questo momento ha conosciuto un travaglio certamente non semplice. Infatti con 4 punti in classifica, una vittoria, un pareggio e 5 sconfitte potrebbe anche starci la condizione di poter vincere tranquillamente sulla carta ma è una squadra da non sottovalutare e spesso le piccole squadre sia pure di media levatura hanno creato più di un problema.